In questo numero di Turismo Magazine, boom del turismo enogastronomico in Italia. Alberghi, con il Green Pass niente chiusure ma restano difficoltà. A Firenze un viaggio nell'inferno di Dante con la realtà virtuale. Boom per il turismo enogastronomico in Italia nel 2021. Tra gennaio e ottobre, il bel paese è primo tra le mete più golose nel mondo, seguito da Francia e Giappone. È quanto emerge da una ricerca Ipsos e dalle tendenze presentate da Google nel corso di BTO, Be Travel on Life. La ricerca di un tour enogastronomico segna più 39%, mentre quella relativa alle cantine mostra un aumento del 30%. Una tendenza confermata anche dai social. Su Instagram la pizza batte il sushi per numero di hashtag e la pasta batte il ramen. Nell'organizzazione di una vacanza, la sostenibilità è considerata un valore molto importante dall'83% dei viaggiatori e il 61% ritiene che la pandemia li abbia resi maggiormente sensibili a questo valore. In linea generale, l'Italia è il paese più desiderato dal punto di vista turistico, secondo il 40% del campione intervistato da Ipsos. Tra gli aspetti più rilevanti spiccano la qualità della vita, seguita dall'ottimismo, dalla creatività e capacità di inventiva che contraddistinguono gli italiani. L'offerta enogastronomica, la moda e l'arte sono considerati i principali ambasciatori della cultura all'estero. Arte ed enogastronomia rappresentano importanti strumenti per elevare la qualità del turismo, la sfida del prossimo futuro. Con il decreto Super Green Pass sono state scongiolate le chiusure, ma al di là di alcune criticità del provvedimento, resta un quadro complessivo davvero difficile per gli hotel italiani. Per Confindustria e Alberghi, sul fronte del nuovo provvedimento è positivo che il legislatore abbia riconosciuto l'albergo come un luogo presidiato e quindi a basso rischio con l'introduzione del solo Green Pass base, ma la norma comunque determina alcune complessità che vanno chiarite e superate al più presto. In primis c'è il tema dei bambini, poiché c'è il timore che l'apertura della campagna vaccinale per i ragazzi dai 5 agli 11 anni possa comportare, anche per loro, l'applicazione in automatico dell'obbligo di Green Pass. Una corsa contro il tempo per vaccinare la fascia dei giovanissimi è una circostanza che rischia di generare delle oggettive complicazioni per le famiglie che vogliono trascurere qualche giorno di vacanza a cavallo del Natale e che potrebbero trovarsi con la difficoltà, per i bambini più piccoli, di dover affrontare un tampone ogni due giorni. Per Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustri Alberghi, seppure le chiusure scongiurate fanno tirare un sospiro di sollievo, resta un quadro drammatico per il settore turismo e in particolare per le aziende alberghiere. Manca il turismo internazionale e certamente neppure in queste festività il turismo interno potrà surrogare a questa assenza. Parliamo di centinaia di migliaia di presenze che mancano all'appello quest'anno. Va ricordato che il settore è ancora pesantemente condizionato dalle limitazioni imposte dalle misure anti-Covid, mentre il mercato americano sta iniziando a ripartire ma a velocità estremamente ridotta, altre ugualmente importanti per il bel paese come quello russo, cinese e indiano sono chiusi ai viaggi per turismo in Italia da più di un anno. Io non morì e non rimasi vivo. Ho avuto anche altre esperienze di questo genere con altri programmi, questa è la prima volta però che mi sento veramente coinvolto sicuramente. Un'esperienza di Dante, ecco quello che rimane al visitatore una volta tolto il visore 3D. Dulcis in fundo per l'anno delle celebrazioni dedicate al Sommo Poeta e il Museo Casa di Dante, propone un vero e proprio tuffo nell'inferno attraverso la realtà virtuale. Fino all'8 dicembre sarà possibile vedere attraverso gli appositi visori la divina commedia VR, l'inferno, un viaggio immersivo, il cortometraggio in realtà virtuale realizzato da ETT, industria digitale creativa che per il museo ha curato il nuovo allestimento e il virtual tour. Nell'occasione della chiusura dell'anno dantesco, ETT insieme al museo vogliono offrire al visitatore un'esperienza emozionale di grande suggestione e qualità. Quest'anno dantesco, questo settecentenario dantesco si conclude qui al Museo Casa di Dante in una maniera un po' speciale, speciale per i nostri visitatori che avranno l'occasione gratuitamente di poter entrare al museo e trovare anche la possibilità di vedere un cortometraggio virtuale dove cammineranno e entreranno dentro l'inferno dantesco. Una bellissima occasione davvero che ci offre questa nuova tecnologia che è questa realtà aumentata e che ci è stata offerta da un'azienda leader nel settore che è ETT e che ringrazio per questa bella opportunità di chiudere quest'anno in bellezza. Il visitatore deve essere stimolato, emozionato, deve essere coinvolto. Questo è quello che avviene con la tecnologia. La tecnologia è al servizio esattamente di questo percorso, di una sceneggiatura che coinvolge in maniera spettacolare il visitatore. È un viaggio che va a integrare due tipi di realtà virtuale. La prima che è una realtà virtuale cinematografica perché Dante inizia il suo viaggio nella selva oscura, in una selva reale, e poi continua in computer grafica, quindi ha un'integrazione di due tipi di soluzioni innovative per permettere poi di vivere in prima persona questa avventura, questo viaggio immersivo nell'inferno. Hai quanto a dir qual'era e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Grazie a tutti.